Che non sia un anno fortunato per Venezia, considerandolo già a partire dal 12 novembre del 2019, lo conferma un episodio davvero clamoroso accaduto sabato mattina. La rottura di una conduttura dell'acquedotto ha provocato la fuoriuscita di acqua trasformando Campo San Polo, non lontano dal ponte di Rialto, in un'altra piazza San Marco nei tempi di acqua alta. Lo spettacolo, se così lo vogliamo definire, è stato davvero impressionante, come confermano le immagini girate dai vigili del fuoco. Campo San Polo a Venezia, il secondo spazio cittadino più grande proprio dopo la piazza principale del capoluogo lagunare, è diventato laguna. Enormi disagi provocati dall'evento per il movimento e il passaggio di persone in un momento clou della vita cittadina come il sabato mattina, per di più caratterizzato nell'occasione dal sole e da temperature tiepide. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Veritas all'azienda acquedottistica per fermare la fuoriuscita e mettere in sicurezza il campo. A memoria cittadina non era mai avvenuto un fatto del genere in questa parte della città, dove Campo San Polo è una delle aree abitualmente risparmiate dalla crescita della marea. Parliamo ovviamente di eventi importanti ma non catastrofici, come il famigerato 12 novembre del 2019.